come maschio io sono nato in argentina come maschio ma adesso sono trans e lavoro in italia come badante quando mia madre che era di chiesa si accorse che avevo interessi da femmina pianse pianse a lungo e mi disse proprio tu dovevi capitarmi come figlio io dissi ma mamma che ci posso fare se sono nato così commento l'ignoranza boccia sempre la natura boccia sempre la legge